Delle varie opportunità di sviluppo e crescita per imprese, artigiani e commercianti se ne è parlato a Ceri nel suggestivo castello di Torlonia nel corso del convegno intrapresa organizzato dall'assessorato alle attività produttive del comune di Cervetri con la supervisione di Marina Morelli. Le due sessioni di lavoro in cui si è parlato di bandi tesi allo sviluppo delle imprese locali hanno caratterizzato l'incontro con imprenditori e liberi professionisti del territorio. Partiamo col testo unico sulle imprese, sul commercio che mette al suo interno un pacchetto economico molto importante dove noi andremo a rintracciare con dei progetti specifici per rilanciare l'economia sul Cervetri. Si guarda soprattutto ai giovani, coloro che decidono di investire nel territorio in cui vivono. Che consiglio darebbe a un giovane? Di buttarsi, di buttarsi nel senso di essere propositivo, di non aver paura di immaginare. Io personalmente quando faccio consulenza con giovani imprenditori dico compiliamo insieme una lista della spesa ma compiliamo soprattutto un elenco di punti buttati giù come se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare tutto. Per il consigliere regionale Maselli questa è un'occasione da prendere al volo. Sì, ci sono bandi, ci sono bandi europei, ci sono bandi nazionali, ci sono bandi regionali che prevedono un cofinanziamento, finanziamenti strutturali dell'Unione Europea, statali e regionali. Quindi appunto bisogna essere informati, la Regione Lazio ha una società, Lazio Innova, che è proprio finalizzata a questo, quindi a dare e erogare contributi alle piccole e medie imprese oltre ad avere un'altra mission, Lazio Innova, quella di assistenza alle imprese. Quindi diciamo che le opportunità ci sono, è chiaro che bisogna essere in grado di coglierle. Intrapresa dunque è il nome di un progetto promosso dall'assessore Luciano Ridolfi al cui interno vi sono le prospettive per la valorizzazione delle imprese locali. E da oggi sulla pagina Facebook al nome di Intrapresa si possono conoscere le modalità per farne parte.